Grazie Presidente. Il Farmer Market di Garbatella è a me molto caro perché io conosco gli operatori, i contadini che ci lavorano da tantissimi anni quando prima era a testaccio e forse qualcuno ancora prima quando mettevano i propri banchi al CAE prima del 2009. Come ha detto la consigliera Baglio, io infatti ero presente, ma perché faccio lì la spesa e non mi vergogno a dirlo, sabato e quindi mi sono poi fermata proprio perché il Presidente del Municipio Ottavo aveva indetto un incontro pubblico cittadino all'interno del mercato proprio per parlare di quello che accadrà alla struttura e quindi anche agli operatori. Io devo dire alcune cose anche per chiarire, cioè prima di tutto ricordiamo che il Movimento 5 Stelle è sempre stato per il chilometro zero, per la filiera corta e quindi ben gradisce il Farmer Market sono nati proprio con l'aggiunta Alemanno nel 2009. Devo dire che molte volte queste strutture magari sono state date non con degli affidamenti o comunque in brevi periodi sono stati dati per affidamenti diretti, invece noi sappiamo benissimo, come ho tentato di spiegare sabato scorso, che ogni struttura di Roma capitale va messa a bando, quindi questo è sicuramente una pietra ferma in questo cammino, quindi ci sarà un bando in cui gli operatori economici, i contadini potranno partecipare in associazione, non in associazione, poi vedremo, e comunque quella struttura verrà quindi affidata al vincitore. Il Movimento 5 Stelle ha anche fatto, come ha ricordato prima l'assessore Cafarotti, un nuovo regolamento dei Farmer Market proprio per sottolineare l'importanza di questo tipo di mercato per l'amministrazione 5 Stelle e proprio nell'ultimo articolo vengono indicati, tra i Farmer Market che rimarranno in vita, vengono proprio indicati, viene proprio indicato quello di Garbatella. E' importante chiarire una cosa, gli operatori che oggi stanno lì, i contadini che stanno lì, chiaramente dovranno organizzarsi o dovranno comunque in qualche modo partecipare al nuovo bando per ritornare in quella struttura. È chiaro che noi siamo favorevoli a che rimangano fino a che non verranno, non arriveranno proprio gli operai a fare i lavori previsti di adeguamento, però è chiaro che devono sapere che non tutti, se non sono vincitori, non tutti entreranno. È per questo che noi, io ho posto l'accento, anche se sono stata criticata sabato scorso, sul fatto che ci possono essere, verranno messe delle aree, come abbiamo visto dall'atto, il municipio dovrà indicare delle aree dove i contadini potranno esporre e vendere i loro prodotti. Questa cosa deve essere vista con favore, perché io ricordo che non sono solo due i mercati contadini, ce n'è anche un altro, ad esempio all'Eur, sul terreno di Eurospa, il velodromo, accanto al velodromo, il sabato vengono degli agricoltori che vendono i loro prodotti all'aperto, nessuno dice niente, c'è tantissima gente, anzi ben venga nel quartiere Eur una cosa del genere, perché non ci sono mercati, anzi questo lo ricordo all'assessore Cafarotti, e quindi si può fare. Invece mi è dispiaciuto vedere che questi operatori, un po' sobbillati dal nervosismo che c'era nell'area, non hanno previsto questa ulteriore possibilità, perché è chiaro che potranno continuare a vendere i loro prodotti anche in un'area dove tutti i cittadini potranno andare. Quindi è chiaro che il nostro voto è chiaramente favorevole, come avevamo detto in quell'occasione, c'è una condivisione di tutte le parti politiche, è chiaro che è importante che gli uffici verifichino una proroga, perché bisogna anche indicare, capire il titolo per cui della permanenza, però insomma noi speriamo che vada tutto a buon fine, perché è chiaro che noi riteniamo che il servizio reso dagli operatori a chilometro zero sia importantissimo per i cittadini e per il territorio. Grazie.